Sarà una manifestazione che stanno preparando molto bene a livello di sicurezza perché per quello che ho potuto vedere con la squadra, soprattutto nel periodo immediato agli attentati, sono state adottate le misure di sicurezza abbastanza pesanti. Noi eravamo super controllati e talmente tanto che alla fine non ti rendevi neanche più conto di stare in un clima un po' teso. Questo per quanto riguarda una semplice partita di campionato, quindi credo che lì non ci sarà da preoccuparsi per le squadre perché verranno adottati, come ripeto, metodi di sicurezza importanti. Soprattutto dopo tutto quello che è successo, credo che a livello di paese la Francia voglia dimostrare di essere un paese forte che risponde in maniera positiva a quelli che sono stati gli attentati di novembre e anche quello di gennaio scorso. Probabilmente per me, per Fede come per altri, avere davanti Gigi è sicuramente una porta quasi impossibile da scalfire, però per quello che mi riguarda io posso essere solo contento di quello che ho fatto in nazionale e di quello che può essere e farò ancora per la mia nazione, per la nazionale. Insomma, e credo che quando avrò smesso di giocare, più tardi negli anni, ripensando a quello che è stato il mio percorso con la nazionale, sarà motivo di orgoglio pensare di essere stato con Gigi che sta scrivendo una pagina importante di questa squadra, diventando con il giocatore simbolo, insomma, ho fatto il record di presenza e tutto, quindi per me sarà, insomma, saranno dei ricordi sicuramente belli.